Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo video di Barraic Oggi parliamo delle partite delle italiane in Europa League Parliamo della sfida tra Milan e Doudelange Svoltasi a Milano, stadio San Siro Mentre la seconda è a Pallon, Limassol, Lazio Svoltasi ovviamente a Cipro La partita del Milan La partita del Milan è stata una partita abbastanza gestita dalla squadra milanese Che passa subito in vantaggio Però stranamente si fa rimontare 2-1 dal Doudelange Che sembrava potesse addirittura gestire questo vantaggio per circa 20 minuti Però poi il Milan dopo un'ora si risveglia e ne fa 5 Borini, Borini ragazzo appena entrato entra e segna Ottantesimo al posto di Patry Cutrone Cutrone che sembra essere l'arma in più di questo Milan Sia in Europa League ma potrà anche essere un campionato Quest'anno non l'ha fatto molto vedere Per via anche di un infortunio Però potrà esserlo, ha tutte le capacità per essere Iguain che fatica a trovare questo gol Che è l'unica cura che sappiamo per gli attaccanti funzionare Mentre Alilovic, Alilovic ragazzi inguardabile Alilovic non ha fatto una partita L'unica occasione che ha avuto L'unica occasione che ha avuto fino adesso Non l'ha sfruttata Alilovic è un giocatore che a gennaio da parte del Milan andrà venduto Bertolacci, anche Bertolacci non si è visto molto Il Milan ha buoni centrocampisti Bertolacci che non è uno dei migliori Però è uno dei centrocampisti che il Milan ha e non può farne a meno Si lamentano in tanti perché non gioca Beh, questa partita si è visto come mai non gioca Magari Montolivo faceva qualcosa di più, ecco Mentre invece parlando della Lazio Una Lazio che ha perso incredibilmente 2-0 Nonostante sia già passata Ed era passata anche come seconda in classifica Perde malamente ad Apollon Il primo gol dell'Apollon Veramente un gol spettacolare, rovesciata Andatelo a vedere se non l'avete già visto Perché è un gol veramente, veramente, veramente fantastico Una Lazio che con le seconde linee fa fatica a trovare spazio Fatica a costruire buone occasioni Nonostante ciò entrano anche giocatori come Kaicedo, come Correa Mentre entra anche un giovane russi Che però non ha fatto vedere granché Dopo la Lazio cercando il pareggio si è sbilanciata Alla fine ha subito anche il gol del 2-0 Una Lazio che così non va Così non va perché Non può andare a giocare da Apollon in Massol Va bene con le riserve ma Facendo una partita a scialba Facendo una partita non molto All'altezza delle sue aspettative Che poi tra l'altro non aveva neanche La squadra non era neanche messa male Perché con gli acquisti quest'estate Beriscia e Durmisi in Porta Proto Che non è l'ultimo dei portieri Era titolare nella squadra l'anno scorso In Spagna se non mi ricordo male Quindi una Lazio che così non va Mentre il Milan vince E convince E sembra Che le riserve stiano Iniziando a giocare in più anche loro Questa potrebbe essere un paradosso Ma per il Milan sembra essere una marcia in più Giocare anche con dei giocatori Grazie agli infortuni che non si vedono mai Così hanno la possibilità Di percepire il campo più volte durante la stagione E quindi ogni volta che ci sarà bisogno Si potranno Quando verranno chiamati in caso Saranno già pronti A dare il loro contributo Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi alla prossima Ciao